La CNA Centro Calabria finalmente dopo svariati tentativi in questi anni si propone di far diventare la CNA un'associazione ancora più grande, più snella, più veloce per risolvere le problematiche dei nostri associati. Le difficoltà più grandi che in questo momento le nostre aziende risentono sono soprattutto l'accesso al credito, il costo del denaro e ovviamente la burocrazia che è molto grande e molto lenta. Ci vorrebbe una concertazione maggiore con gli istituti bancari, loro devono ricredere nuovamente in questo territorio come noi lo stiamo rifacendo, rimanendo qua e investendo qua. Oltre il 90% delle aziende che sono l'ossatura dell'economia calabrese sono costituite da piccole aziende, addirittura alcune volte a conduzione familiare. Porto sempre un esempio, il brand più grande dell'Italia, del mondo in questo momento è la Ferrari, credo che sia partita facendo l'artigiano. Grazie a tutti.